Salve a tutti ragazzi, qui TTT e ben ritrovati sul mio canale Siamo qua su Dark and Battle, Dragon Ball Z Dark and Battle versione JAP Per andare ad affrontare assieme il nuovo 25 stamina di Black Int Ragazzi, si sono ancora senza stone, a breve arriveranno anche le pull ragazzi Arriveranno anche le pull Comunque andiamo ad affrontare Black con il team di Cooler Finalmente ho tutta l'ability dove serve Cooler ability free, vabbè amen però abbiamo Cooler fisico full E Freeza STR finalmente 90%, non ho un'altra copia, quella è la cosa più brutta Ecco qua intanto il nuovo evento, andiamo a prendere 25 stamina E Freeza STR 90%, finalmente ability 3 pompatissimo Uh, un ability 1 Cooler, andiamo subito, andiamo Allora, vediamo un pochino, vabbè come item portiamo roba a random E comunque un dock an event e voglio più che altro vedere Quanti turni? È che io mi porto dietro praticamente Cooler fisico Quindi sto chiedendo di shottare tutte le fasi Int Quella è la cosa, no? Sto chiedendo questo Shottiamo le fasi Int, è divertente Andiamo comunque ragazzi, andiamo ad affrontare l'evento di Black Da quel che ho visto fa tanti 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 danni quando è in rosè In rosè la forma evoluta di Black della carta Però solo lì praticamente, è solo che non ho ben capito esattamente come funziona Però vediamo Allora intanto Uh, ah subito così dritti per dritti si va al boss Oh che bello Che bello ragazzi, andiamo Facciamo in questo modo, perfetto Andiamo, andiamo contro Black Vediamo un pochino di che si tratta questo evento Eccolo qua, ah si inizia con Black Tech Ok, Black Tech Andiamo un pochino, ah che brutto turno Che brutto turno Facciamo una roba Facciamo girare un Sì, facciamo girare il mio cooler schifoso Che è la cosa più importante da fare a sto punto Poi mettiamo a tankare comunque il cooler ability 1 Lo mettiamo lì C'è un bel po' di colpi, lo boostiamo già Non mi fare troppo danno Ok, 42.000 A posto, a posto Me ne frego perché tanto ora che Ci ricopriamo un casino di vita in questo turno Quindi chissene, chissene altamente dei danni che ci ha fatto Black 5 barre di vita Ok, vabbè Vai, tankiamo Cura Che bello Che bello vederlo tankare È la cosa più bella Ok, andiamo avanti intanto No, non mi attacca prima con Freeza STR No Non è boostato No Questa è la cosa brutta Questa è la cosa brutta di questo Freeza STR Quando non c'è l'attacco primo Perde moltissimo in questo team Perde veramente moltissimo in questo team Anche perché fa molto, molto, molto meno danno ragazzi Cioè Questo Freeza diventa bello potente solo quando viene colpito prima Aghiala special Vabbè Black e Kamehameha schifosissima Lasciamo perdere Ah che bello Siamo praticamente il team del refill HP È bellissimo questo team L'odore Stannato oppure Uh C'ho una piccola idea Mi sa che mi è venuta una piccola idea Per provare un PG Che richiede lo stun ragazzi Mi sa che mi è venuta questa piccola bella idea Allora facciamo in questo modo Io direi sempre di boostare cooler Perché cooler è bello Cooler noi lo vogliamo boostato No boost No party Quindi facciamo in questo modo Kid Bu intanto che è sempre lì Bello Salve Ah vabbè che era Era stannato Che cacchio ho messo a tankare cooler Cooler AGL Non serviva Vabbè L'additional special Vai Va bene Comunque amen Io voglio Io voglio Spero più che altro Di vedere una special Di Rosé Int Perché la voglio vedere in game È veramente bella Però Visto che ancora non ho la carta Voglio almeno vedere la special Di Rosé Int Dai Non posso usare questo Fritz STR Praticamente mi ha detto No non puoi Sempre attacchi dopo E allora Vai a quel paese Vai a quel paese Fritz STR Ti vorrei usare Ti vorrei usare veramente Ma mi è impossibile in questo momento Lo capisci Fritz Mi è impossibile Non posso Se non mi attacca primo Black Io non posso usarti Fritz Oh black powerball Ma cos'è Quello fisico Bel danno Ah no No Non sembra quello fisico E que Boh Sì no Sì no È black fisico La prima versione Quello non tour Dovrebbe essere quello non tour Black fisico non tour Dovrebbe essere Ecco qua Beccati questo Addio Vabbè Questo turno è durato anche Troppo poco Eccolo qua Black Int Dovrebbe essere lui Vediamo un pochino Eccolo qua Sì Black Int Ok Black Int Mi dispiace che c'è cooler davanti a te Quindi praticamente Esplodi Esplodi malissimo Te lo dico Esplodi malissimo Però Vabbè Cooler Vai Ho paura Anche perché c'è Tarles ragazzi Quanti danni va a fare sto cooler Ho veramente paura Milione e sette Adesso inizia a criptare come Vabbè Tre barre di vita Vai Ah niente special Ecco perché odio cooler ragazzi Cioè mi chiedete perché odio cooler Perché È full ability C'ha anche un bel po' di add Ma special Non me le fa in più Non le vuole fare Quella è la cosa più brutta Oh eccola la special Quella con Di black normale Non trasformato Con la pallina Esplosioni atomiche Oddio Carina la special L'additional di Di Tarles ragazzi Abbiamo deciso di volerlo Shottare ogni turno Va bene Ok Io volevo gustarmi un attimo Vabbè Rosè Ci siamo Rosè Oh Un po' di vita Non troppa però Me l'aspettavo molto Niente Niente Non posso Non posso usare Freeza STR Non posso Praticamente mi è stato detto No Col K Eh No Non la tiri Basta E che cavolo Io volevo vedere Una special Una special Volevo vedere Cavolo Ho lasciato Kid Buu Attancare 18 colpi Aiuto Aiuto Kid Buu Resisti Vabbè che sono colpi Int quindi Eccola la special Mamma mia Mamma mia Che bella Wow Veramente wow Cioè È un filmino È un filmino Lungo lungo Però è bellissima Ragazzi Cioè Più stiamo andando avanti Più qua le special Diventano molto 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 belle Molto belle Aia 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 Ah Ok Aia Ha preso tanti danni Col Kid Buu Aia Aiuto Vabbè dai Diamo un po' di spazio A cooler fisico Va bene Facciamolo attaccare primo Diamo un po' di spazio A cooler fisico Vediamo se Ora No Che è un altro turno Decide di far miglia di Ah sicura pure 400.000 HP È un'altra special Che fai Merge Zamas Special a turno Ogni turno special Ok Va bene Peccato il 29 di danno 1.9.000 Cooler Per favore La prima Andata La seconda Pugni Ah Io Odio cooler Questo è il motivo Full ability Non mi fa gli additional Mi odia Ce l'abbiamo fatta Comunque Abbiamo sconfitto Black Black int 25 stamina di black int Abbastanza facile Abbastanza facile Fa Però Fa paura Fa paura un attimo black Perché Sembra che fa la special Ogni turno Quello fa un pochino paura Però ragazzi Evento carino Le special sono carine Adesso Non ci manca che Pullare ragazzi Dobbiamo pullare E provare a prendere Le copie Di black Finalmente Dobbiamo fare anche quello ragazzi Detto questo ragazzi Comunque Spero che il video vi sia piaciuto Fatemi sapere la vostra Lasciate un commento sotto Ditemi come vi sembrano le carte di black ragazzi E in più Iscrivetevi Vi ricordo anche Che potete seguirmi sulla pagina Facebook E sul profilo Instagram Tutti i link sono sotto In descrizione E ragazzi Se volete seguirmi in live Lo potete fare Anche con il link In descrizione Al canale Twitch ragazzi Live alle 21 Quasi ogni sera E in più Se vi servono delle stone Per pullare su black ragazzi Controllate il link In descrizione Al gruppo Facebook Detto questo Noi Ci vediamo al prossimo video Ciao a tutti ragazzi Ciao a tutti Grazie a tutti.